Il prossimo weekend, dal 31 maggio al 2 giugno, torna Verona Sport Expo, la rassegna dedicata ai ragazzi dai 5 ai 14 anni per conoscere gli sport. Dalla pallavolo al basket, dall'arrampicata alla danza ritmica, alla pesca sportiva, più di 50 le discipline in cui i bambini e ragazzi potranno cimentarsi. L'iniziativa come sempre è gratuita ma per evitare assembramenti l'organizzazione dell'evento chiede la registrazione online sul sito sportexpoverona.it. Il 31 maggio sarà la giornata dedicata alle scuole mentre 1 e 2 giugno apertura a tutta la città. Quella del prossimo fine settimana sarà una grande festa dello sport e oltre allo stadio Bente Godi saranno utilizzati anche l'antistadio Guido Tavellin, la Palazzina Masprone, il Palasport AGSM Forum e il BMX Olimpic Area in Via Sogare. Tutto è pronto dunque Verona riparte dallo sport.